In queste ore il ghiaccio è il nemico numero uno degli automobilisti biellesi. Se nelle arterie più trafficate il manto stradale è più battuto, in quelle più periferiche montane il rischio di uscita di strada è altissimo. Doppio incidente in due orari diversi a Valdilana, sulla provinciale Ponzone-Baltigati. Due auto nello stesso tratto di strada a causa del ghiaccio sono letteralmente sbalzate fuori dalla sede e finite nel pendio che la costeggia. Sul posto immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Ponzone, entrambi gli equipaggi sono stati soccorsi dai sanitari del 118, in un caso con relativo ricovero in ospedale per accertamenti, nel secondo invece fortunatamente l'autista era molto spaventato ma illeso. Sono stati affidati ai carabinieri di zona i rilievi del sinistro.